Ma possiamo raccontare di cosa hai fatto tu in macchina un po' di anni fa, o meglio di no? Incidente? Eh. Vai! No, vai, raccontalo te, io mi ricordo... Mia mamma mi dice sempre di non raccontarlo. Ah, perché è una roba... Perché mi devo vergognare, mi ho detto. No, vabbè, ho fatto un incidente, raccontavo la parte divertente e basta. Cioè che ho portato la macchina... Da sola? Ho fatto due o tre giri. Ma con fieri su? Con delle amiche che non si sono fatte niente. Che invitava? Sennò che sono uscita, c'era la musica di Snoop Dogg, io ero tutto in gaso e cercavo di girare la macchina per scappare. In realtà era pure esplosa una gomma, sembrava di essere un film, sono un po' pazza. Cioè praticamente uno è in strada, vedo una ruota che gira, si ferma, esce Elena Berlato, ta-da-da-da-da-da-da. Raga, spingo la macchina. Vabbè. Però posso anche dire un'altra roba, no? Non lo so, bella patente, posso dirlo, no? Eh che me l'hanno ritirata. Per quanto te... Te mi ricorda che avevamo un po' di... Sei mesi. ho fatto i lavori socialmente utili quindi ragazzi non bevete quando mettete la guida se no finite come me a lavorare in biblioteca per tre mesi gratis però poi magari andate a fare olliefans e fate un botto di soldi quanto avevi di tasso alcolemico? non l'aveva bevuto l'hai detto devi non bere no se non entro nei dettagli era ieri un po' ticcia tanti non so fare il numero uno perché me l'aveva raccontato è passato tanto tempo adesso sono più cosciente intelligente